Buon pomeriggio comunità di Irpin. Oggi abbiamo buone notizie. Oggi Irpin è stata liberata e lo sgombero è in corso. Voglio ringraziare i membri delle forze armate dell'Ucraina, ringraziare la difesa territoriale, ringraziare la Polizia Nazionale e le unità speciali della Polizia. Vorrei ringraziare il Dipartimento di Polizia Speciale Principale. Ragazzi, quando siamo insieme siamo una forza. Amici, mi rivolgo anche ai nostri residenti. Non potete ancora tornare a Irpin, non è ancora sicuro. Stiamo consolidando le nostre linee e andremo a liberare Bucia, Ostomel, Vorzel. Sappiamo che ci saranno altri attacchi alla nostra città e la difenderemo con coraggio. Irpin è l'Ucraina. Gloria all'Ucraina. Gloria agli eroi. Era Alexander Markushin che è il sindaco di Irpin che annunciava al mondo la liberazione dai russi della città di Irpin. Avete già intravisto Fabio Tonacci, perché scusami Fabio tu l'avevi intervistato vero il sindaco l'altro giorno? Sì, mi aveva raccontato questa circostanza incredibile che i russi lo stavano seguendo con i droni per bombardarlo, aveva già scampato la vita tre volte a tre bombardamenti russi, proprio perché il sindaco di una città qui in Ucraina conta anche più di quello che è il sindaco dalle nostre parti, è proprio il punto di riferimento di una comunità. In quel momento, poiché stavano ritirando da Irpin, uccidere il sindaco o catturarlo e costringerlo poi a negoziare, far mostrarlo che sta collaborando con i russi, era l'unica chance che avevano i russi in quel momento per evitare la disfatta di Irpin. Vice Ministra degli Esteri Marina Serieni qui in studio con noi, accanto a Maurizio Molinari il Direttore di Repubblica, ben trovati, benvenuti. Buonasera. Lo avete visto, buonasera. C'è Fabio Tonacci che però si è spostato da Irpin, cioè da Kiev sostanzialmente, Irpin è la prima periferia di Kiev a Kharkiv. Un viaggio che è durato quanto tempo, Fabio? Come è andata questo viaggio? Il viaggio è durato tutta la notte di ieri, abbiamo preso un treno alle 11 da Kiev e siamo arrivati stamattina intorno alle 10, 10 e mezzo. Un treno notturno che andava molto piano, si fermava tantissime volte. Sì, neanche troppo pieno, devo dire. Non è che ci siano molti motivi per tornare a Kharkiv in queste ore. Certo, chi dovrebbe tornarci. E Antonio Monda, collegato da New York. Antonio, ben trovato, bentornato a Metropolis, tu che sei nella vera Metropolis. Buongiorno a voi. Buonasera qui. Poi ci racconterai di quello che è successo ad Hollywood, delle scazzottate che fanno a pugna il caso di dirlo con la tragedia dell'Ucraina, però sono parte dello spettacolo. Antonio? Guarda, innanzitutto cominciamo a dire che non è stato un bello spettacolo, né da un punto di vista proprio dell'allestimento della serata, era molto fiacco, né ovviamente il caso è scandaloso. Vedo che ci sono dei dibattiti, è stato state, cioè falso o vero? Io propendo per la verità, per due motivi. Scusami, Will Smith che prende a schiaffi, Chris Rock che è l'animatore della serata, no? Il presentatore di questi accadini. Era il presentatore del settore specifico, perché in passato è stato lost per due anni di seguito, ma proprio perché aveva fatto infuriare varie persone non è stato pensato più di confermarlo. Ieri ha fatto una battuta neanche così terribile sulla moglie di Will Smith che soffre di alopecia e come sappiamo tutti, Will Smith si è alzato e gli ha dato uno schiaffone. Allora perché penso che sia una cosa vera? Innanzitutto perché due attori, due personalità di quel tipo rischiano enormemente con una cosa del genere. Prestarsi è una cosa falsa e mettendo a rischio la carriera è veramente suicida. Ma c'è un altro dato. In passato c'era già una credine forte, accumulata tra i due, che risale al 2018-2019 quando inizia la campagna dell'Oscar So White, una campagna che diceva non vincono mai gli Oscar, o comunque troppi pochi gli Oscar, gli uomini e le donne di colore. E in quell'occasione ci fu un po' scontro, quindi c'era qualcosa di accumulato. Questi due dati mi fanno pensare che sia stato tutto vero e poi se ti fa piacere qualcosa in generale sulla serata. Ci torniamo tra pochissimo, ci torniamo tra pochissimo anche con una specie di Mauviola, Luca, Luca Pira su un bar dei cazzotti che sono girati ieri. Un'attenta analisi. Un'attenta analisi. Ci proviamo. Però intanto, amici miei, siamo al trentatresimo giorno di guerra, al trentatresimo giorno di guerra sono successe molte cose, ci sono nuovi negoziati che cominciano domani alle nove in Turchia, c'è Zelensky che ha parlato con Draghi e ha aperto, Maurizio, sulla neutralità, ma non sul riconoscimento delle due repubbliche autonome. Sì, diciamo, abbiamo due sviluppi paralleli. Il primo sicuramente, come abbiamo visto prima, è che i russi si stanno ritirando dall'area attorno a Kiev. Per gli ucraini è un successo importante. Queste truppe stanno andando verso la Bielorussia, salendo su verso nord. Ora è una ritirata apparente o reale, naturalmente le cose in guerra si sanno, bisogna sempre essere prudenti, però di fatto la pressione militare russa su Kiev sta diminuendo e questo è un successo militare per Zelensky. Esatto, è un successo sul campo. Dopo un mese di combattimenti durissimi è qualcosa di significativo da un punto di vista anche politico di statura e Zelensky ovviamente va all'attacco e dice che sono pronto a trattare, a negoziare, neutralità, possiamo stracciare la questione della Crimea e del Donbass, però sostanzialmente i russi devono riconoscere la nostra indipendenza e sovranità. Le chiedo tra un attimo, Vice Ministra, il ruolo dell'Italia. Oggi c'è stata questa telefonata tra Zelensky e Putin, abbiamo capito, c'era adesso Lavrov, il ministro degli esteri russo, che non ci sarà a brevissimo un faccia a faccia tra Zelensky e Putin, probabilmente non ci sarà neanche a brevissima una telefonata tra Draghi e lo stesso Putin, insomma siamo ancora un po' in alto mare, però oggi ha parlato il Presidente Mattarella, il Presidente della Repubblica. Luca lo abbiamo? Lo possiamo sentire? Sì, lo sentiamo, il Presidente Mattarella che ha parlato, arriva. Abbiamo dovuto assistere al rieplodere di aggressivi egoismi nazionali, assistendo a vittime di ogni età, dai bambini agli anziani, a devastazioni di città e di campagne, proprio per questo stiamo rispondendo con la dovuta solidarietà all'aggressione nei confronti dell'Ucraina, con l'accoglienza dei profughi, con il sostegno concreto a chi resiste a difesa della propria terra contro un'invasione militare, per rendere insostenibile questo ritorno alla prepotenza della guerra, che se non trovasse ostacoli non si fermerebbe. Abbiamo deciso di chiamare questa puntata di Metropolis, considerando anche Hollywood, gli Oscar, citando un vecchio e indimenticato film di Sergio Leone, anche perché il Ministro dell'Economia ucraino, oggi si chiama Yulia Siridenko, ha detto che questa guerra è già costata più di 500 miliardi di Euro, 564 miliardi di Euro, un costo della guerra pazzesca e quindi il titolo di questo Metropolis c'era una volta in Ucraina. Vice Ministro, allora, un mare di soldi, un mare di morti, 5 mila morti, ma chi lo sa come si fa a stabilirlo con la nebbia di guerra, qual è il ruolo dell'Italia in questo momento? Ho capito che Zelensky ha ringraziato l'Italia per la disponibilità a farsi parte di un sistema di garanzie. Il ruolo dell'Italia è stato intanto in una cornice straordinariamente compatta, l'Europa, la Nato, il rapporto con gli Stati Uniti, si è evidenziato una totale unità di intenti, una grande determinazione dei paesi, i nostri alleati, i nostri partner e forse questo è un tema sul quale Putin aveva informazioni diverse, questa unità sostanziale si è avuta anche grazie all'iniziativa dell'Italia che sin dal primo momento ha condannato con molta fermezza, con molta nettezza l'aggressione dei russi nei confronti dell'Ucraina e ha messo in primo piano la nostra disponibilità a dare aiuti materiali, aiuti militari, aiuti umanitari e a sostenere il percorso delle sanzioni che sono sanzioni molto complesse, molto impegnative per tutti, compreso il nostro paese ovviamente che ne vive le conseguenze e verso le quali noi stiamo cercando di attutire l'impatto sul nostro sistema economico anche attraverso una riflessione, una discussione a livello europeo, noi siamo stati dal primo momento senza esitazioni e vorrei anche dire, si discute molto nei talk show in queste ore sui distinguo all'interno della politica italiana, però c'è un'unità del Parlamento che è incredibile, non solo tutte le forze del governo che sostengono il governo Draghi, ma addirittura una parte dell'opposizione che ha sostenuto tutti i provvedimenti che fin qui il governo Draghi ha proposto sia sul versante del sostegno all'Ucraina, sia sul versante degli aiuti materiali, degli aiuti umanitari, quindi io considero questo un dato molto importante, oggi Zelensky lo riconosce e ci chiede anche di far parte di un sistema di garanzie che se si apriranno speriamo prima possibile dei negoziati veri, se si arriverà speriamo prima possibile ad una pace vera, in qualche misura ci sia una garanzia, cioè Zelensky ha aperto all'ipotesi di una neutralità dell'Ucraina che però deve avere in cambio un sistema di garanzie internazionali perché giustamente tutti ricordano quello che è accaduto dopo l'indipendenza dell'Ucraina e poi le violazioni che di quell'accordo dopo l'indipendenza invece l'Ucraina ha subito a partire dal 2014. Quindi potrebbe essere una garanzia dell'Unione Europea? Mi pare di capire che il Presidente Zelensky abbia in mente i cinque paesi, quattro perché uno è la Russia, del Consiglio di Sicurezza e alcuni paesi tipo il Canada, la Turchia e alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, la Germania, la Francia, l'Italia, quindi un grande gruppo di contatto che possa garantire qualora si arrivasse ad un accordo sulla dimensione territoriale che è la parte mi pare molto più complessa di questa vicenda e anche su un'eventuale neutralità dell'Ucraina si possa però in qualche modo prendere un impegno per garantire la sicurezza di questo paese. Gerardo possiamo tornare da Fabio in Ucraina? Quello lasciamo andare? Sì perché poi deve scrivere e poi il direttore si arrabbia. Allora scusami, è vero questo, va bene, allora io so che tu ci hai mandato una storia, che cosa hai girato questo pomeriggio arrivando a Kharkiv nelle prime ore? Una città battile, una città comunque devastata. Sì, molto diversa da Kiev devo dire in questo, è una città dove la guerra si sente proprio fin dentro il centro della città, tutta la parte nord, est è sottoposta a continui bombardamenti, anche oggi si sentono praticamente in continuazione con la discoteca, parlavo con dei ragazzi di di Kharkiv che mi dicevano che nel pomeriggio comincia sempre la discoteca, nel senso che si comincia a sentire questi poeti, non neanche troppo in lontananza perché poi in realtà stanno colpendo un po' ovunque, in quella zona nord e nord-ovest. Tu sei in un albergo in centro in questo momento? Noi sono in un albergo nella parte più lontana dalla front line perché sono gli unici rimasti aperti, gli altri sono chiusi per motivi di sicurezza e ho girato un po' di immagini di quello, questo per esempio era uno dei mercati più grandi dell'Ucraina dove c'erano soprattutto roba da mangiare, il food ed è stato completamente, è una delle prime cose che è stata sventrata che i russi hanno mirato e il volontario che mi portava lì sosteneva che è una tattica precisa, è una tattica precisa, colpire i market, colpire i grandi depositi di cibo proprio per affamarli e fiaccare il fronte interno della città che come sapete è stata la prima capitale dell'Ucraina sovietica, qui è stata una grande maggioranza della popolazione russofona e teatro nella seconda guerra dei sconti violentissimi, venne praticamente rasa al suolo tra gli scontri tra l'armata rossa e la Germania nazista e quindi insomma è una città completamente dove la guerra si sente davvero ogni minuto e le cittadine hanno paura molto di più rispetto a quelli che stanno a Kiev, a Kiev vi ho raccontato nel centro della città tutto sommato si sta anche cominciando a ritornare alla vita, anche perché soprattutto grazie a questi successi militari che si hanno sul fronte di Nord Ovest, qui invece la città è semicircondata da lontano dai russi, gli ucraini li stanno respingendo lentamente, però la reazione dei russi è furibonda, sparano scariche di grad a grappoli di venti sui quartieri. Scusami ma quanta gente è rimasta però a Kharkiv? Perché questa città che ci stai raccontando tu dal mercato, completamente distrutto, carbonizzato, in apparenza è una città invivibile, invece quanta gente è rimasta? A un milione e mezzo di persone la seconda città dell'Ucraina dicevano che sono rimaste circa 600 mila persone, 600-500 mila persone, però oggi sono andato un po' in giro, non è Kiev, è una città in guerra, è una città in guerra dove la guerra si vede, si respira e si prova sulla propria pelle, perché insomma non è difficile capitare nei pressi di bombardamenti con i grad o con i missili, quindi insomma è ben diversa la situazione, anche a livello di sicurezza. E' un pazzesco quello che dici perché in fondo Maurizio, un milione e mezzo, queste città ucraine sono enormi, un milione e mezzo di abitanti è più di Milano, è come se fosse stata aggredita Milano con metà della popolazione che sostanzialmente è una tragedia, è fuggita. 33 giorni siamo Marina Serenina, 33 giorni, i piani, i progetti dell'Unione Europea in questo momento, quali sono? Quelli di continuare ad armare ad libitum la resistenza ucraina? Intanto se non ci fossero stati gli aiuti dell'Europa, della Nato… Non saremmo qui a raccontarla. Non saremmo qua, questo è il punto, ovviamente avremmo preferito che Putin non avesse invaso l'Ucraina, non avesse tentato l'invasione dell'Ucraina e per settimane prima del 24 del mese scorso abbiamo tentato di evitare questo scenario, non è stato possibile perché Putin ha deciso di avviare questa operazione militare, questa aggressione militare, se non ci fossero stati gli aiuti finanziari e militari dell'Europa e della Nato, oggi gli ucraini non sarebbero in grado più di resistere. Quindi io vorrei che fosse chiaro all'opinione pubblica italiana e europea che gli aiuti militari, gli aiuti umanitari, la solidarietà politica che è stata sviluppata in tutte queste settimane sono servite ad arrivare qui e sono finalizzate a fermare la guerra, questo è il punto. Noi non vogliamo estendere la guerra, noi vogliamo evitare assolutamente una espansione del conflitto e soprattutto vogliamo costringere chi ha avviato questa guerra a fermarsi. È quello che il Presidente della Repubblica chiama un sostegno concreto. Il sostegno concreto è finalizzato a firmare la guerra. È importante quello che ci sta dicendo Marina Serini anche sul fatto che l'Italia può essere uno dei paesi garanti della sovranità dell'Ucraina una volta che si dovesse siglare l'accordo che ci sarà del fuoco con la Russia. E questi negoziati di domani in Turchia c'è molta volontà dei turchi di diventare mediatori di un processo di pace, ma c'è anche la capacità di farlo? Stavo ascoltando prima l'intervista a uno di questi consiglieri di Erdogan, molto critico nei confronti dei russi, molto aggressivo nei confronti di Putin, indicando che fino a questo momento il vero nodo è che loro non accettano di fermare l'attacco. Anche il ruolo della Turchia è molto interessante, perché praticamente è un paese che fino a un paio di mesi fa molto critico nei confronti degli Stati Uniti, invece la realtà vera è che sta giocando assieme all'Europa, assieme alla Nato, in qualche maniera perché percepisce il rischio di trasformare l'Ucraina nell'inizio di un pericoloso domino strategico. Antonio, hai visto queste immagini di Kharkiv che ci ha girato il nostro Fabio Tonacci? Sembra un pessimo e pure realistico, incredibilmente neorealistico film di guerra. Sembra Berlino anno zero. Ed è terribile dover parlare dei cazzotti tra due divi. È terribile, sì, è vero, hai ragione. Sì, le immagini sono atroci. Se vuoi ritorno alla serata perché ci sono delle riflessioni secondo me interessanti. Doveva andare a un certo punto, c'è stata una polemica, anche qui gli Oscar devono o no ospitare il Presidente ucraino o comunque un suo messaggio registrato. Si è deciso di no? Io sarei stato favorevole perché gli Oscar sono non solo un evento pop come qualcuno lo vuole vedere, sono un elemento che attraversa tutta la società, alta e bassa, nobile e meno nobile e perché no? Se c'è una battaglia per la libertà è una platea mondiale di più di un miliardo di spettatori, sarebbe stato utilissimo. Io non ignoro i motivi per cui poi è andato, c'era Chopin che diceva se non lo fanno parlare dobbiamo boicottarlo tutti. Questo ha scatenato come inevitabile una serie di polemiche. Non c'era nessuno che ha detto bisogna far parlare anche Putin però, invece nel Parlamento italiano a un certo punto c'era qualcuno, è vero, Maurizio ce lo ricordiamo, che ha detto bisogna far parlare anche Putin. Un intermezzo comico. Forse perché non l'hanno chiesto Oliver Stone, lui l'avrebbe detto. Esatto. E quindi stavi dicendo ti ho interrotto. No, allora volevo dire qualcosa sulla serata perché quello che è avvenuto ci porta a fare delle riflessioni secondo me interessanti. Allora il primo dato, provate a immaginare per un attimo se lo schiaffo fosse stato dato da un bianco a un nero oppure viceversa se un bianco è un bianco. Provate solo a immaginare cosa diremmo oggi. La seconda cosa, dopo decenni di nobili, importanti battaglie di stampo femminista, abbiamo un uomo che difende in quel modo la donna, secondo me ridicolizzando, umiliando tutto quello che è stato fatto in decenni, decenni o ventenni è quello che è. Quindi il secondo punto. Il terzo era tutta una serata costruita per la celebrazione delle diversità, dell'amore fraterno, anche con derive politicamente corrette che sono state distrutte da questo periodo. Completamente. Completamente mortificate. Anche per questo credo che non possa essere stata una cosa messa in scena. Sarebbero dei pessimi sceneggiatori, tu dici, certo. E aggiungo anche che le scelte e le vittorie vanno tutte in quella chiave lì. Ora, non ho nulla contro il film Coda, devo dire, l'ho anche un po' cercato per la festa del cinema, quindi per carità lo trovo un film piacevole, di non riuscito, eccetera. Tuttavia, come si può fare a mettere un film come Ligoro Spizza di Paul Thomas Anderson, West Side Story di Steven Spielberg, o lo stesso Il potere del cane di James Campion rispetto a un film del genere? E aggiungo il premio al bravissimo, sottolino bravissimo, attore sordomuto, che ha vinto come non protagonista. Siamo sicuri, dico una cosa provocatoria, che la sua, come dicono adesso, il suo essere diversamente abile non abbia contato molto sulla sua vittoria. Purtroppo questa è una cosa sulla quale riflette. Allora, ci riflettiamo ancora tra pochissimo, anche perché appunto Coda, il film che ha vinto, mi sembra un remake di un film francese, di un film francese di grande successo, proprio sull'eggiabilità. È riuscito, per carità, però mi sembra che non abbia la stessa struttura, lo stesso spessore, non passerà alla storia del cinema come già, sono passati alcuni di questi film che vi ho citato. Però hai ragione tu, Hollywood, vai vai finisci, finisci. No, di questa atmosfera, di queste, scusami, sceneggiature iniziali, questo copione che da rispettare, il primo sulla correttezza politica, lo dico semplificando un po' e mi prodeneranno gli spettatori. Secondo, sugli studios versus i nuovi colossi, Netflix, Apple, eccetera, eccetera. Chi ha pagato la sua assurrenza è anche il nostro Paolo Sorrentino, perché se vedete il numero delle candidature agli Oscar di due mesi fa, della Netflix, se non sbaglio erano 24, le vittorie sono meno di 5. Scusami, però una domanda a questo punto, per tornare sulla guerra. Tu credi che Zelensky non abbia parlato agli Oscar per questione di correttezza politica? No, 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 queste sono due cose completamente diverse. No, 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 stavo suggerendo queste. C'è stata una valutazione, evidentemente, dall'Academy, non conosco le trattative. Il punto è che in questo tipo di manifestazioni bisogna rispettare alcune regole, nonostante c'è stata questa eccezione dello schiaffo. Ricorda che quest'anno, per la prima volta, non c'era una disposizione classica, cioè da teatro dove tutti sono seduti sulle poltrone, poi bisogna fare dei gradini per salire sul palcoscenico, ma come hai visto, c'erano dei divani. È tutto immediato, sì. Quindi era difficilissimo controllarlo, cioè lui si è alzato, ha fatto quattro passi e ha dato uno schiaffone. Va bene. Tornando indietro, questa è una posizione rispetto al fatto che è tutto rigorosamente controllato. È possibile che Zelensky ha detto no, io dico quello che voglio, ma questa è una mia supposizione. Va bene, comunque sia, nel frattempo, al trentatresimo giorno di guerra, la macchina di Hollywood va avanti, non si ferma, in anella anche episodi più o meno controversi, ma nel frattempo la guerra. Ci domandavamo l'altro giorno, Antonio, quando è che Hollywood comincerà a raccontare anche questa guerra e tu dicevi, beh, ci vuole tempo, Hollywood ha una digestione lenta della guerra prima di poterla raccontare. Comunque noi abbiamo chiesto al trentatresimo giorno di farci il punto al nostro Gianluca Di Feo, come sempre. Questa nuova settimana di guerra si apre con quello che i militari chiamano l'accorciamento del perimetro. I russi hanno capito di essersi spinti troppo in avanti, in troppe zone e che l'ambizione di scatenare un'offensiva lungo l'intera Ucraina, dal Mar Nero a Kiev, è ingestibile per le loro forze, soprattutto perché la resistenza ucraina è stata molto più dinamica e molto più determinata di quello che avessero previsto. Allora cosa stanno facendo? Stanno spostando truppe dove più gli servono, stanno diminuendo le zone dove cercano di concentrare gli attacchi. I soldati che nel primo giorno di guerra erano penetrati dalla Bielorussia, cercando di entrare a Kiev da Irpen, che sono stati respinti dopo feroci combattimenti, adesso rientrano in Bielorussia, anzitutto per riposarsi, perché dopo un mese di guerra, un mese in cui hanno combattuto, hanno dormito dove capitava, hanno mangiato quello che trovavano, qualsiasi reparto ha bisogno di ristoro, ma soprattutto per concentrare le energie su quelli che sono gli obiettivi strategici dei russi. I russi non cercano più di denazificare, come hanno detto loro, ossia invadere e occupare l'intera Ucraina, ma si concentrano su quelli che erano i territori chiesti all'inizio, Donetsk e Lugansk. Le forze migliori stanno in questo momento combattendo qui a Izium, che da sempre nella storia, anche nella seconda guerra mondiale, è stato l'elemento fondamentale per la conquista del Donbass. Stanno aumentando la pressione su Kharkiv, la città martire, la città dove ci sono episodi feroci da ambo le parti, ma soprattutto da parte russa che sta martellando e bombardando le case da oltre 35 giorni. E stanno anche intensificando i combattimenti intorno a Cherniv, altra città martire, perché? Perché vogliono tenere la pressione su Kiev, non per occupare e invadere Kiev, ormai i russi hanno capito che non lo possono fare, ma per impedire che da Kiev arrivino rinforzi in quest'altra zona. Mariupol si combatte negli ultimi gruppi di palazzi, Zelensky ha detto di aver chiesto ai soldati ucraini di ritirarsi, ma loro non vogliono, in gran parte sono combattenti della brigata Azov, la legione di estremisti neri che resisteranno fino all'ultimo, anche perché in questi combattimenti non si prendono prigionieri. Che cosa vedremo nei prossimi giorni? Vedremo la battaglia intensificarsi in tutta questa zona nel tentativo di occupare più territorio possibile e presentarsi con una base negoziale forte russa. Sarà la fine del conflitto, forse sarà soltanto la fine di una prima fase, finché Putin non sarà convinto di potersi presentare con una vittoria, continua andando avanti e forse sarà tentato dal mobilitare altre risorse, chiamando nuovi uomini alle armi in Russia. Ecco, forse Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, questo è il punto, la costruzione di una base negoziale, non si può vincere la guerra, al 33esimo giorno mi sembra che Putin lo abbia più o meno intuito, però bisogna consolidare delle roccaforti per poi sedersi veramente. Sì, Putin ha bisogno di risultati, lui ha detto che potrà affinare alle operazioni militari il 9 maggio, il giorno della grande vittoria patriottica nella seconda guerra mondiale, ragionevolmente vuole consolidare il controllo del Donbass, vuole prendere Mario Pol per avere una continuità territoriale lungo il mare d'Azofa, cioè lo sbucco al mare. Certo per lui non è una situazione facile, perché di fatto è di fronte agli occhi di tutti che gli ucraini hanno fermato la grande armata russa, quindi c'è uno smacco politico, bisognava vedere come lui lo gestirà all'interno del suo sistema di potere. Tu hai intervistato l'altro giorno Zelensky, il Presidente ucraino, mi è sembrato di capire che loro stessi, lui stesso, il Sindaco di Irpin che abbiamo visto prima, nelle prime ore di guerra fossero sorpresi da tutto questo e pensassero è finita, non lo potremo mai fermare. Lui ha parlato proprio di una guerra lampo, hanno tentato di vincere con una guerra lampo, la guerra lampo è fallita perché gli ucraini hanno combattuto tutti per la vita o la morte, questo è il punto vero, quando lui dice ogni ucraina è un Presidente, ogni ucraina è un combattente, è realtà vero, lui dice quello che sente, lo dice con un fremito di emozione, però secondo me è quello che i russi non prevedevano, i russi come prima giustamente Marina Sereni stava dicendo, avevano fatto un altro calcolo, pensavano probabilmente che una parte importante dell'Ucraina le avrebbe accolti a braccia aperte, ma così non è stato. E nella comunicazione invece nei confronti dell'Europa nostra, dell'Italia, dei paesi europei, Zelensky com'è? Perché poi pubblicamente dice, beh noi abbiamo bisogno di più forze. La vittoria più importante di Zelensky, noi avevamo imparato questa grande abilità russa nella guerra ibrida, il generale Gerasimo, i media, il cyber, tutte queste cose qui, è vero che sui social i troll russi sono efficaci, è vero che il populismo si nutre di questo, però il punto vero è che Zelensky è stato più efficace di loro, perché? Perché ha messo la sua faccia, questo è il punto vero, lui ha trasformato se stesso da vittima in protagonista, e questo ha sbaragliato il ruolo e le difficoltà di Putin, perché tanto più Putin lo voleva eliminare, tanto più lui si mostrava in pubblico. Tutto questo punto di vista, come dire, parlando di Hollywood, dello spettacolo è molto interessante, perché lui ha trasformato l'immagine in un'arma per frenare in ultima istanza, far fallire i piani di Putin. Cioè ha saputo sceneggiare benissimo il proprio ruolo di presidente da guerra. Di grande dramma greco, perché c'era la sua vita e la sua morte sullo stage, sui palcosceni, rischiando la morte, però lui testimoniando sono ancora vivo e combatto con le mie mani, testimoniava che i russi non ce la facevano. E c'è stato anche Magna Sereni, però un po' di polemica soprattutto all'inizio, sì ma noi siamo qui e rischiamo la vita, combattiamo anche per voi, questo è uno dei messaggi che ha dato Zelensky, uno dei messaggi se vuole hollywoodiani, classici, se passano i carri armati qui, poi arriveranno in Polonia e nel resto d'Europa, dateci più armi. Noi abbiamo saputo dare le armi, perché sono passate attraverso la Polonia, eccetera, però a un certo punto ci siamo fermati, per esempio non abbiamo dato gli aerei, i MiG 29 che chiedevano, non abbiamo fatto la no fly zone. Sì, Zelensky è stato bravissimo, bravissimo come comunicatore, direi anche bravissimo come leader, perché certamente ha dovuto motivare la sua popolazione, non sta combattendo solo l'esercito, stanno combattendo i cittadini, stanno combattendo le donne, quindi abbiamo veramente una resistenza in atto, questo è molto importante ed è stato fondamentale che lui fosse lì e che dimostrasse ogni giorno di rimanere lì, ve l'ho ricordato i primi giorni di guerra, doveva ogni giorno farsi vedere e dire no, no, io sono qui, i russi hanno anche tentato di dire no, ma quello era registrato, in realtà lui è già uscito, lui è già scappato dal paese, eccetera, quindi è stato molto bravo in questo, è molto bravo ad incalzare l'opinione pubblica internazionale e i paesi che lo stanno aiutando a continuare in questo sforzo, certamente sa che noi abbiamo dei limiti, sa che noi non possiamo rischiare la terza guerra mondiale, è la prima volta che c'è una guerra tradizionale, convenzionale, ibrida per alcuni aspetti, con una potenza nucleare coinvolta, non è la guerra dell'ex Jugoslavia, noi vediamo delle immagini che molti di noi, della mia generazione ricordano, le città distrutte dell'ex Jugoslavia, ma no, qua c'è una potenza nucleare coinvolta e noi non possiamo mettere nel conto che si possa andare oltre, questo io penso che Zeleschi lo capisca perfettamente, certamente non ci possiamo fermare, nel senso che quello che loro possono avere da noi è un continuo sostegno perché questa resistenza possa continuare, possa reggere e forse accelerare i tempi, qui giustamente il direttore richiamava l'idea del 9 maggio, è ancora lunga la strada, significa ancora più di un mese di guerra, perché il 9 maggio è la data in teoria indicata dai russi, ma i russi purtroppo hanno detto tante cose in queste settimane e hanno mandato anche messaggi contraddittori, quindi noi non possiamo mettere per certo che questo è, e in ogni caso ancora un mese di bombardamenti come abbiamo visto, ancora un mese di morti civili, ancora un mese di morti tra i bambini, io avevo dei dati impressionanti, le organizzazioni delle Nazioni Unite ci dicono che oltre 500 presidi ospedalieri, sanitari sono stati colpiti, sono state colpite le scuole, quindi stiamo parlando di danni che non sono solo economici, sono anche danni profondi sul tessuto di quella società, di quel paese. Questo è il dato più drammatico, noi siamo di fronte a un esercito che ha scatenato una guerra di invasione aggressiva contro la popolazione civile. Contro i civili, esatto. Ecco, sui civili, poi le chiederemo fino a dove possiamo arrivare invece in Italia, l'altro giorno c'era con Maurizio Molinari e con me seduto al suo posto il Ministro Guerini e abbiamo chiesto di questo 2%, adesso ci arriviamo, però nel frattempo i civili e quello che sta succedendo, cioè le decine di migliaia di profughi che ogni giorno lasciano l'Ucraina e arrivano anche in Italia, credono che siano arrivati quanti, Angelica Migliorisi? Più di 70 mila, vero in Italia? Sì, ormai siamo a 78 mila profughi circa in Italia e anche se ovviamente la Polonia resta il paese più colpito, se così possiamo dire da questo punto di vista. e peraltro oggi proprio sul fronte dell'accoglienza è una giornata molto importante sia per l'Italia sia per l'Unione Europea, per quanto riguarda l'Unione Europea oggi penso sia ancora in corso il Consiglio straordinario Giustizia e Affari Interni che dovrà discutere proprio di ulteriori aiuti appunto da stanziare per i profughi ucraini e in particolar modo la valutazione è quella di stanziare 1000 Euro ogni 6 mesi per ogni rifugiato ospitato, prevedendo inoltre anche dei trasporti gratuiti per permettere ai rifugiati di spostarsi, di allontanarsi dal paese di prima accoglienza. Questa era una proposta peraltro piccolo inciso avanzata da Polonia e Germania che adesso quindi potrebbe avere il via libera proprio di Bruxelles. A livello europeo 1000 Euro per le famiglie ospitanti sostanzialmente. Esattamente e inoltre sempre questo Consiglio dovrebbe decidere anche circa l'ulteriore stanziamento di 3 miliardi e mezzo previsto dalla Commissione Europea settimana scorsa e in cambio è molto probabile che verrà richiesto di ridiscutere il patto sull'immigrazione sull'asilo che come sappiamo è ormai fermo da circa un anno e mezzo proprio per il veto diciamo per il no di alcuni governi tra cui proprio quello polacco e questo insomma sarà un nodo abbastanza di questa accoglienza. E questo quindi sul fronte europeo. Sul fronte italiano invece abbiamo la protezione civile che oggi dovrebbe insomma firmare un'ordinanza proprio sugli aiuti alle famiglie che ospitano rifugiati ucraini. In particolar modo si tratta di un contributo tra i 25-30 Euro al giorno per ogni rifugiato ospitato. Oltre a ciò un assegno di 500-600 Euro al mese per 90 giorni per quei rifugiati che in maniera del tutto autonoma troveranno una sistemazione. Inoltre il rimborso per i centri di accoglienza verrà aumentato di 10 Euro al giorno a persona accolta e questo è interessante perché si passa quindi dai 21 Euro che aveva deciso Salvini nel 2018 e circa 33 Euro di oggi. E infine è previsto un aiuto, una tantum per i comuni. Un 30% in più, ho capito. Esatto e oggi proprio il nostro Matteo Macorra ha incontrato a proposito di Polonia appunto una ragazza ucraina che è proprio scappata in Polonia. Di chi parliamo quando parliamo di profughi. Esatto, la sentiamo. Mi chiamo Aliona e ho 35 anni. Vengo da Nikolaev vicino a Mariupol. Andava tutto bene nella nostra vita e poi hanno cominciato a risuonare le sirene. Sempre di più che annunciavano gli attacchi dei russi. E poi è cominciata la guerra. Così con mia sorella e i miei figli abbiamo deciso di scappare. Abbiamo preso il treno per Leopoli e poi da lì un altro treno per arrivare qui in Polonia. Abbiamo viaggiato per due giorni tutti ammassati in mezzo a grandi difficoltà. Ora i bambini stanno meglio. I miei figli hanno 9, 11 e 16 anni. L'idea è di andare in Spagna ma per poi tornare in Ucraina. Io voglio tornare. Mia sorella che è incinta vuole tornare. Vuole far crescere suo figlio in Ucraina. Ti assicuro, noi volevamo restare a casa in Ucraina. Ma era terribile sentire le esplosioni, vedere i nostri figli terrorizzati. Tutto quello che facciamo lo facciamo per non vederli con quella paura negli occhi. È una cosa terribile la guerra. Non si riesce a spiegare. Io cerco di elaborare ma non riesco davvero a trovare un senso in quello che fa il presidente russo. È matto. Cioè, viene da pensare Maurizio, non lo so, lo volevo chiedere a Marina Sereni, che adesso sì, è ovvio che noi siamo tutti pronti all'accoglienza, ad aumentare i soldi, 70 mila profughi in fondo sono pochi, ma fino a quando ci sarà secondo te a un certo punto qualcuno che comincerà a eccepire qualcosa in Italia? Ma io credo che di fronte una tragedia come questa chiude le volte. È obiettivamente difficile. Marina Sereni? Impossibile. Intanto dobbiamo segnalare un fatto. Di tutti quegli ucraini che sono arrivati in Italia, gli oltre 70 mila che sono arrivati in Italia, il 75-80% ha trovato una collocazione presso privati. Quindi stiamo parlando di un'accoglienza diffusa che è figlia della mobilitazione del terzo settore, della chiesa, degli enti locali, della comunità ucraina che sta qua, che è una comunità integrata. Quindi noi abbiamo intanto un grande serbatoio di solidarietà. Abbiamo, come dire, una sensibilità diffusa. Non credo che questo tema sarà divisivo nella politica italiana. Semmai dovrebbe servirci ad essere un pochino più realisti anche rispetto ad altre tragedie. Perché la tragedia dell'Ucraina è grandissima, enorme e alle porte di casa nostra non è diversa da quella di chi scappa dalla guerra in Etiopia o in altre parti del mondo. In Afghanistan, certo. Ecco, in Afghanistan. E quindi io penso che c'è stata una rottura in Europa. Abbiamo per la prima volta applicato una direttiva, quella del 2001, la direttiva 55, che dà protezione temporanea a queste persone perché scappano da una guerra. È la prima volta che questo accade, la direttiva esiste dal 2001. Forse questo è un precedente su cui toccherà lavorare e così come bisognerà tirar fuori dal cassetto la riforma della gestione dell'asilo. Oggi noi siamo per essere solidali con la Polonia. Lo chiedevamo quando eravamo noi il primo approdo e quindi lo diciamo oggi che il primo approdo è la Polonia. Credo che molti vorranno rimanere in quella regione perché sperano di poter tornare in Ucraina. Però certo la pressione in Polonia oggi è enorme, per non parlare della Moldavia che è il paese più povero d'Europa. Quindi i paesi limitrofi debbono essere aiutati, li dobbiamo aiutare lì e li dobbiamo aiutare anche favorendo una certa mobilità, come è stato già detto dalla vostra giornalista. La discussione sulla possibilità di viaggiare gratuitamente è esattamente per favorire la mobilità perché non c'è una ridistribuzione. La direttiva non prevede una ridistribuzione degli ucraini che escono dal paese e stanno in Europa. Il paradosso di questa guerra, Maurizio, è proprio ribaltare le credenze fino a ieri che muoverono l'Europa. La Polonia, esatto, non è già il contrapasso. L'Europa orientale che faceva sempre resistenza nei confronti dei ucchi che venivano dall'Africa e dall'Asia, in realtà si trova di fronte a una tragedia in casa, apre le porte, accetta l'integrazione, accetta gli arrivi, accetta la distribuzione di fondi ai primi paesi di accoglienza e in realtà le crisi però servono anche a queste, le crisi sono dei grandi momenti di shock dove si riequilibrano le situazioni. L'Europa sembra di aver bisogno sempre di qualche crisi shock per poter cambiare, per poter trovare delle soluzioni più avanzate. È stato così con il Covid, con Next Generation EU, forse questa guerra ci costringerà, ci sta costringendo ad affrontare diversamente anche il tema dell'immigrazione del latino. L'ultimo passaggio ci costringe anche ad alzare la spesa militare. Le faccio sentire Guerini, intervistato da Maurizio e da me soltanto due settimane fa, un po' di più forse, che ha fatto abbastanza impressione la Germania che ha deciso di aumentare tutto a un tratto, non lo faceva dalla Seconda Guerra Mondiale, del 2% le spese militari. La domanda è, anche noi saremo in grado di farlo, aumentare le nostre spese militari, perché mi sembra che il clima sia un po' quello, portarle al 2%. Guardi, in realtà il tema del finanziamento degli investimenti e delle spese per la difesa è un tema che già noi ci siamo posti e che già sta vedendo un trend di crescita. Io registro solo gli anni in cui sono stato ministro, gli anni in cui sono stato ministro, insomma da settembre 2019 ad oggi, il bilancio ordinario della difesa è cresciuto in maniera importante, di quanto più o meno? Beh, il 2019 era 22 miliardi e 2, il bilancio ordinario e oggi siamo a 25 miliardi e 2. Che era 0,4-0,5? Oggi il bilancio della difesa rispetto al defense pledge, agli obiettivi della Nato, che vengono conteggiati in maniera particolare, oggi noi siamo intorno all'1,41, 1,40, 1,41. Eravamo all'1,20 quando sono arrivato, ci sta rafforzando. Quasi un mese fa, noi eravamo facili profeti, in realtà poi c'è stato un rischieramento su questo, in particolare il Movimento 5 Stelle di Conte, fino a poche ore fa, diciamo, noi siamo pronti a opporci all'idea di arrivare al 2%, adesso mi sembra di capire che hanno fatto marcia indietro, però è chiaro che è un tema sensibile, no Maurizio? Sì, per il governo e anche per il centro-sinistra, diciamo la verità. Ma io penso che sia sbagliato approcciare questa discussione come elemento emotivo conseguenza di questa guerra, perché non è così, il tema di come riorganizzare la spesa della difesa italiana ed europea era sul tavolo, lo ha detto il Ministro, da molto tempo, non solo per degli impegni sottoscritti dall'Italia, ma anche perché c'è una oggettività dei fatti, ci sono minacce nuove, penso alla cyber security, noi non possiamo non affrontare il tema della sicurezza cibernetica, questo significa investimenti nuovi, c'è un problema di nuove tecnologie, c'è un problema di ammodernamento dell'apparato militare, c'è un problema anche di personale, di ammodernamento della struttura del sistema militare. questo tema c'era prima, c'è oggi, semmai oggi abbiamo di fronte, a proposito di che cosa ci costringe a fare questa guerra, abbiamo di fronte l'esigenza di accelerare sul terreno della difesa europea e allora io considererei sbagliato che i 27 paesi europei aumentassero le spese militari ciascuno per conto suo, credo che sia più utile che questo aumento della spesa militare venga inquadrato dentro a un'accelerazione del tema difesa europea, ieri abbiamo approvato lo strategic compass a livello della Nato, dobbiamo approvare anche una nuova strategia europea, poi c'è un altro impegno internazionale che l'Italia ha sottoscritto da molti anni e che riguarda anche questo una percentuale del PIL, lo 0,7 per la cooperazione internazionale allo sviluppo, perché lo richiamo? Lo richiamo perché per l'Italia… Quindi 2% più 0,7? No, lo 0,7 è un'altra percentuale, stiamo parlando di un'altra cifra, di un altro impegno di bilancio, che è quello della cooperazione allo sviluppo, significa gli aiuti ai paesi in via di sviluppo, significa l'assistenza umanitaria, significa come l'Italia sta nelle aree di crisi e come l'Italia sta nel mondo, siccome noi siamo un paese del G7, io penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra proiezione internazionale e la dobbiamo rafforzare certamente anche sul piano della tutela, della sicurezza e della difesa, ma dobbiamo rafforzarla anche sul lato della diplomazia e della cooperazione internazionale, perché se ci confrontiamo tante volte con i paesi a noi vicini, la Francia, la Germania, la Spagna etc., noi per ricordare delle percentuali l'anno scorso eravamo allo 0,22 e abbiamo sottoscritto molti anni fa lo 0,7 come obiettivo minimo di percentuale del PIL da dedicare alla cooperazione allo sviluppo. Mi metterei sullo stesso piano queste due cose, piuttosto che dire non facciamo l'una, io direi facciamole tutte e due. Va bene, abbiamo chiuso, volevo tornare per un attimo da Antonio Monda collegato da New York, nel giorno dopo, nella notte dopo gli Oscar, l'altro giorno Antonio non ti è sfuggito, Biden è venuto in Europa, prima a Bruxelles, poi sul confine con la Polonia e ha detto Putin è un macellaio, al di là del fatto che forse Biden è anche un po' in campagna elettorale per le prossime elezioni di midterm, come viene raccontata la guerra lì, come la raccontiamo noi? Tu sei appena stato adesso due settimane in Italia qui con noi, anche ospite della rivolta di Metropolis, più o meno è lo stesso tipo di racconto che viene fatto oppure no? E poi chiudiamo sugli Oscar. Partiamo dalla battuta, pur condividendo quello che ha detto, non credo che sia una battuta saggia da un punto di vista politico, può essere utile per quello che hai appena detto, inizia una lunga campagna elettorale, ma in un momento in cui si negozia, si tratta, l'ha esposto poi a una parziale retomarcia, soprattutto l'ha esposto all'isolamento da parte di Macron in primis e lo stesso Blinken, se non sbaglio, ha frenato. Quindi, ripeto, condivido, ma forse non è stata una mossa saggia. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, l'angoscia è totale, basta vedere il titolo del New York Times o del Washington Post, sono posti forti come quelli che facciamo a Repubblica o che fanno i grandi giornali, con la differenza che è vissuta comunque come un posto, come qualcosa che viene oltreoceano. Ecco, questo forse va capito. Noi ci sentiamo un po' in una maia di chilometri, noi romani, italiani, qui non è così, però la solidarietà per il popolo ucraino, eccetera, eccetera, è tutto, è completo, almeno per gran parte dell'elettorato. Va bene, Luca, il finale lo facciamo su questa scazzottata di ieri? Sì, anche se è difficile mischiare i due piani, per quanto, insomma. Sì, facciamo vedere invece cosa mi ha ricordato a me la scazzottata. Prima vediamola però. La vediamo il VAR, vediamo il VAR. Qualche sospetto resta. Ora vediamo cosa mi ha ricordato. Antonio, qualche sospetto ce l'abbiamo noi, dai. Maurizio è di io, ma che sospetto. Anche Maurizio è sospetto. Non lo so. Ecco, a me è ricordato questo, non so se ad Antonio è ricordato, altrimenti ce l'abbiamo. Sì, certo, certo. Vabbè, questo c'è sempre. Insomma, vabbè. Io sono d'accordo con quello che prima diceva Antonio sul cortocircuito del politicamente corretto che è andato in onda ieri sera all'Academy. Cioè, la cosa che mi ha colpito, tutti noi siamo affascinati da questa grande cerimonia che è la consegna degli Oscar, quello che a me ha colpito è come dopo questo atto di violenza, perché è stato un atto di violenza, l'autore dell'atto di violenza si mette comodamente seduto in prima fila. Cioè, questo è il disprezzo totale delle regole, della convivenza di chi guarda in televisione, di quello che Hollywood ha sempre raccontato che è rispetto dell'altro. Insomma, c'è qualcosa che ha fatto cortocircuito. E va bene, in tempi di cortocircuito capita anche questo persino ad Hollywood. La nostra controcopertina, io ringrazio Marina Sereni, Maurizio Molinari, Antonio Monda da New York, la nostra copertina oggi è affidata a Dario Vergassola. Ci vediamo domani. Quando ho visto questa scena è stato fantastico. Intanto ho scoperto che il nostro buon attore non ha un destro folgorante, ma diciamo che è un po' una mezza pipa da ripugni, perché quell'altro non si è neanche spostato. Quindi dopo tutti i film d'azione che ha fatto, io pensavo che lo stendesse al primo pugno. Invece niente è rimasto in piedi. Ma detto questo, io credo che bisogna essere molto scorretti, bisogna sempre essere scorretti. E' giusto che devi dire tutto quello che vuoi, io sono per la libertà d'espressione, però le battute poi le paghi nel momento che dici delle cose che non fa ridere, non fa ridere, la volta dopo non ti chiamano più, perdi un cachet e questo è il prezzo da pagare, perché se ognuno che sente una battuta che non gli piace, si alza in piedi e dà un pugno al comico di turno, saremo pieni di ambulanze che fanno avanti e indietro nei cabaret d'Italia, quindi anche nelle trasmissioni televisive, la gente staccherebbe il vetro alla televisione per prendere a pugni i presentatori o tutto quello che si vede dietro. Dicono che sia stata una roba quasi inventata, io non ci credo e non mi è sembrata una, non l'hanno fatta bene, poi agli Oscar è stata una sceneggiota molto brutta, ma soprattutto spero che sia stato un esercizio di qualche, non so, logopedista della Kidman, perché lei non riesce più dopo le cose che si è fatta per farsi più bella a articolare bene le parole e il suono, quindi credo che abbiamo visto lo spalancamento di bocca della Kidman sia stato fatto per questa operazione, per vedere quanto riusciva a spalancare la bocca a lei. Una piccola chiusa sul fatto che il nostro Will Smith ha preso l'Oscar per aver interpretato il papà delle telliste, quindi secondo me, secondo il metodo Stanislavski doveva salire sul palco e dargli una racchettata piuttosto al nostro comico, cioè o così o niente, non è che ha preso il primo per Rocchi, però è un po' loffio, gli ha dato un fischione molto loffio, gli facevo più male io. Buoh. Buongiorno 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 Grazie a tutti.